Francesca Pascale, dopo parleremo anche del caso di Giovanni Totti, che peraltro lei conosce molto bene. Ma vorrei invece cominciare con lei da questa foto che ha postato. Eccoci qua. Allora, vediamo Berlusconi, vediamo Dilettanti e il caso al quale si riferisce è quello di Boccia San Giuliano. Ce la spiega bene questa foto? Perché posso ricordare che lei è stata la fidanzata ufficiale per otto anni di Silvio Berlusconi dal 2012 al... Sì, ufficialmente sì, ma accanto a Silvio Berlusconi sono stati 15 anni i più belli e costruttivi della mia vita. Ecco, però Silvio Berlusconi è anche, diciamo, un po' il simbolo assoluto della commissione tra affari privati, politica, potere. Quindi mi spieghi perché ha postato questa foto? Sono un post abbastanza irriverente. Intendevo semplicemente dire che questo governo attuale non è bravo neanche a commettere gli errori di Berlusconi. L'ho fatto in maniera abbastanza frivola. Non credevo di suscitare così tanta critica. Mi ha fatto piacere, ma significa anche una cosa ben precisa, che probabilmente Berlusconi forse fa sentire un po' la sua mancanza, rispetto anche all'attuale governo che veramente lascia a desiderare anche, credo, quell'elettorato di destra. Nonostante la Meloni non scenda nei sondaggi, però credo che gli elettori di destra si stiano abbastanza annoiando ad ascoltare cose che agli italiani tutti non interessano. Non interessano perché tutti gli italiani hanno problemi più urgenti delle questioni di letto o private del ministro, ormai ex San Giuliano con Maria Rosaria Boschi. Ma chi è stato in questa vicenda il più dilettante? Chi si è comportato in modo... Ma credo, due punti, signora Grube. Il primo è che della boccia, francamente, non mi sono fatta un'idea ben precisa. L'unica cosa che mi sono chiesta è che se l'incarico fosse andato in porto, non so se poi tutto questo caos mediatico sarebbe poi nato. Quindi la boccia non è un argomento che mi appossiona politicamente. Cioè se fosse diventata consulente di San Giuliano del Ministero della Cultura? Questa è una cosa che mi lascia pensare. Non conosco bene la vicenda, però questa cosa mi fa pensare. Mi pensa che un po' la signora Boccia sia vendicando un pochino? Credo stia facendo la sua strada, come è giusto che sia, come tutte le donne e tutti gli uomini debbano fare, indipendentemente da quello che penso io o gli altri. La signora Boccia fa la sua strada. Io non voglio giudicarla. Non mi sento neanche di infierire ulteriormente in quello che sta accadendo a San Giuliano, perché spesso mi sono trovata anche in maniera indiretta a subire del sciacallaggio mediatico, seppur giusto, e non lo auguro a nessuno. Detto questo della vicenda Boccia, quello che mi piacerebbe sottolineare è la doppia morale, l'ipocrisia di una certa destra, quella abbastanza feroce, che spesso usa la politica della doppia morale strumentalizzando e usando uno dei temi più importanti dell'Italia, che è la famiglia tradizionale. E questo è il problema. La famiglia tradizionale di famiglie tradizionali non ne vediamo, non ne vedevamo tanto in passato e in questo governo men che meno.